ammaccabanane showbill omaggio a Mahmood che ha fatto la voce della nuova versione di Sebastian mi ha fatto voto libero e allora pronti per una nuova puntata ma prima il riassunto di quella precedente del periodo rinascimento Disney bisogna guardare la sirenetta quando tutto ebbe inizio la sirenetta, la sirenetta live action la bella e la bestia, la bella e la bestia live action Aladdin, il ritorno di Jafar la serie Aladdin Aladdin, Aladdin è il re dei ladri e Aladdin live action The Nightmare Before Christmas Il re leone, il re leone, Hakuna Matata il re leone 2, il regno di Simba il re leone live action e facciamola una piccola parentesi ogni tanto perché il re leone che è un altro dei miei preferiti è un bellissimo film di formazione e quindi volevo dire anche questo perché? perché nasce sicuramente dalle ceneri di Bambi perché è un'altra storia molto simile che parla di famiglia, di perdita da una parte abbiamo la madre, da una parte abbiamo il padre la riunione, la crescita il trovare l'amore per riuscire a trovare se stessi ritrovare le radici per volare c'è tantissimo dentro delle costellazioni familiari di cui io sono pregno perché ho avuto un padre medico e anche energetico ricordati chi sei ma andiamo avanti con il riassunto Pocahontas il Gobbo di Notre Dame il Gobbo di Notre Dame 2 James e la pesca gigante Hercules la serie Hercules Mulan Mulan 2 Mulan Live Action e per finire Tarzan la serie La leggenda di Tarzan e Tarzan e Jane ancora una piccola cosa prima di passare al prossimo periodo Disney riguardo al precedente abbiamo una serie di principesse tutte nuove dagli anni 90 che popolano il nuovo universo disneyano Ariel, Belle, Jasmine Pocahontas Mulan sono tutte quante delle principesse guerriere cosa significa? che adesso le principesse in realtà non sono più da salvare come era nell'epoca di Walt Disney ma in questo momento diventano più autosufficienti o meglio diventano coloro che possono anche salvare a volte i principi ma soprattutto salvare se stesse sono messaggi tutti nuovi e molto interessanti perché iniziano in un'epoca abbastanza lontana perché ne stiamo parlando adesso tantissimo in questi anni ma in realtà il movimento c'è stato molto prima la mia postilla è stata fatta e adesso entriamo finalmente nell'era della sperimentazione ovvero gli anni 2000 e tutto quello che ha portato la computer grafica sempre in questo periodo ne parleremo più avanti nasce anche un'altra casa di produzione che poi rimarrà all'interno della Disney e sto parlando ovviamente della Pixar questa era della sperimentazione incomincia con un rifacimento seguito del grande classico disneyano fantasia che qui chiamiamo fantasia 2000 in fantasia 2000 oltre a ritornare il grande classico dell'apprendista stregone ci sono tutta una serie di nuovi corti musicali bellissimi tutti legati a nuove sonorità e nuovi effetti visivi iniziano anche ad esserci i primi momenti di tecnica d'animazione usate insieme nello stesso momento ovvero l'animazione tradizionale e l'animazione tutta nuova legata ovviamente alla computer grafica come dicevamo oltre a tutti i colori e tutti gli effetti che ci sono in questo film divino come ho sempre detto anche per fantasia originale c'è una novità che io adoro perché è il mio personaggio preferito ma è l'introduzione anche di Paperino all'interno di questo classico che questa volta invece troviamo in compagnia di Paperina e quindi abbiamo il duo di Paperi in un intermezzo legato all'arca di Noè sarà che mi trovo molto più in sintonia con Paperino tantissimi gli ospiti negli intermezzi live action dove vediamo l'orchestra i direttori d'orchestra ma ci sono anche gli immancabili Angela Lensbury James R. Jones Beth Midler Steve Martin Quincy Jones e Penn e Teller ovviamente tutti quanti hanno partecipato a qualche lungometraggio a qualche momento disneyano e quindi sono qui per parlare e celebrare insieme gli anni disneyani passati e presenti vorrei non citarlo ma devo farlo semplicemente per dire lasciatelo nel dimenticatoio esiste un film live action che si chiama L'apprendista stregone ma non c'entra assolutamente nulla con tutto quello che è stato fatto all'interno dei due fantasia che dire non guardatelo ma andiamo avanti invece con i classici il primo vero classico di quest'epoca è Dinosauri che è un film poverino molto molto problematico perché la trama non è delle più scattanti la novità anche dell'unire sempre queste tecniche di animazione e quindi il disegno con la computer grafica qui inizia ancora come appunto abbiamo detto quel momento di sperimentazione e quindi questo film è legato a questo è una storia molto semplice ovviamente parla di dinosauri ma anche di altre creature e però rimane appunto semplicemente un inizio di quest'epoca parliamo invece di un classico della Disney ancora con l'animazione tradizionale che è rimasto nei cuori di tutti perché è diventato un film che ci ha stupiti ci ha stupiti con la sua simpatia ci ha stupiti con la la verve inventiva di una storia raccontata in maniera molto demenziale ma anche ovviamente sempre molto legata al sentimento e sto parlando delle folie dell'imperatore Cusco Isma Pacha tutti i personaggi che ci sono in questa storia sono divertentissimi e ti innamori di loro li segui li vivi e soprattutto ti scompisci con loro perché è questo quello che c'è nelle folie dell'imperatore una storia sempre di formazione un viaggio di un anti-eroe che diventa eroe ma tutti i personaggi che li ruotano attorno hanno una base solida un effetto dirompente perché persino i cattivi diventano simpatici e in questo caso Isma o anche Kronk che comunque è un poverino non è un vero cattivo è semplicemente un po' tontarello ti danno tutte le emozioni possibili ovviamente questo è legato anche a un grandissimo doppiaggio perché a fare le voci di Cusco e di Kronk sono Luca e Paolo comici italiani famosissimi ovviamente che qui danno prova di avere delle voci perfette per il doppiaggio e ovviamente la carissima Anna Marchesini che fa la voce di Isma che noi conoscevamo già la sua voce sapevamo già benissimo che era brava a doppiare ma ce ne ha dato grandissima prova in questo film insomma guardatevi sicuramente le follie dell'imperatore anche le musiche sono divertentissime e orecchiabili tutte le battute che ci sono vengono riproposte vengono ridette continuamente nel gergo comune credo o almeno io e molti nerd lo facciamo molti disneyani lo facciamo di certo oltre al classico esistono anche il suo seguito le follie di Kronk che non poteva mancare per il semplice fatto che Kronk è stato un personaggio estremamente divertente e quindi viene riproposto come protagonista in questa storia e poi esiste una serie animata che si chiama A scuola con l'imperatore mantiene sempre la parte molto divertente di tutto quello che è la storia originale ovviamente è una serie quindi è in pillole è un po' più ridotta diventa una cosa un po' diversa perché racconta il fatto che Kusko rimane senza impero e quindi per poter ritornare ad essere un imperatore deve andare a scuola e quindi questa è la trama ovviamente c'è una parte una controparte femminile legata a lui e quindi inizia ad esserci un po' più di umanità in questo personaggio che avendo vissuto l'animalità diventando un lama finalmente con l'aiuto di Paccia e di tutti gli altri personaggi che ci sono ancora cerca di diventare la miglior versione di sé se nella puntata scorsa ho detto praticamente molto spesso quanti attori quanti doppiatori quanti personaggi c'erano a collaborare finalmente alla Disney questa volta farò una scrematura per ogni tanto comunque dire che ci sono ma diciamo che il periodo passato è stato il momento vero grazie al rinascimento proprio di buttarsi tutti quanti all'interno di questo universo disneyano e portarlo alla ribalta di nuovo in questo periodo invece di sperimentazione ci sono tantissimi partecipanti che siano americani o che siano italiani ma ci sono veramente tanti 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 attori doppiatori cantanti che vengono a far parte di questo mondo di questo universo parlare di tutti sarebbe forse poco interessante uno può andare a cercare determinate cose sicuramente racconterò di alcuni di quelli che ci sono per sempre dare qualche punto in realtà in questo periodo la cosa che mi interessa passarvi è che davvero c'è una sperimentazione perché ogni cartone animato che è stato fatto in questo periodo ha una particolarità diversa rispetto a quello precedente e quello successivo e quindi sono estremamente diversi l'uno dall'altro proprio perché si stava cercando un equilibrio che forse non si è trovato in questo periodo ma ha gettato come al solito delle basi per il periodo successivo e quindi è servito anche questo al suo scopo ed ecco infatti un altro dei classici che in quel periodo non è stato calcolato al meglio ed è Atlantis l'impero perduto bellissimo bellissimo lungometraggio d'animazione anche qui misto sempre di animazione tradizionale e computer grafica perché appunto tutto quello che sono i macchinari vengono riproposti con la computer grafica poi ci sono altre cose ovviamente ma una storia bellissima perché riprende ovviamente 20.000 leghe sotto i mari prende spunto da tantissimo di quello che c'è già nei racconti di Jules Verne o comunque di altri ma sono anche qui personaggi stupendi Milo in questo caso doppiato in originale da Michael J. Fox per esempio che viaggia per trovare questa civiltà e questa civiltà è rappresentata in una maniera che per esempio era molto innovativa Kida personaggio femminile è una principessa che purtroppo non è entrata a far parte delle principesse Disney per esempio e qui abbiamo speculare sempre questi periodi che si rifanno della Disney in questo caso il periodo della sperimentazione non è molto simile all'età del bronzo disneyana almeno la parte finale quella che abbiamo detto essere l'età oscura disneyana degli anni 80 dove anche la principessa Irene di Tara nella pentola magica non è entrata a far parte delle principesse Disney per semplicemente numeri al botteghino e quindi purtroppo anche Kida nonostante la sua bellezza il suo essere davvero di impatto perché chiunque abbia visto questo film si ricorda benissimo di questo personaggio e di quanta forza di quanta determinazione di quanta femminilità ci sia e appunto anche sempre la particolarità dell'effetto d'animazione che dava ci sono ovviamente tantissimi altri elementi che portano ad essere Atlantis un'opera molto interessante ovvero anche l'introduzione di tutti i geoglifici insomma o comunque il parlato scritto di questo mondo atlantideo che viene dal Klingoniano di Star Trek che appunto è stato riportato da chi aveva creato la lingua all'interno della serie e infatti per esempio altra citazione nella citazione c'è Leonard Nimoy che fa la voce del Revi Atlantide da noi invece ci sono le voci di Claudio Bisio per Molière l'uomo talpa mettiamola così e di Franca Valeri per il personaggio dell'anziana signora che si occupa delle comunicazioni e quindi ci sono comunque sempre personaggi legati al mondo attoriale che intervengono a partecipare a questa opera c'è un altro punto che è molto interessante perché il grande disegnatore Mike Mignola è colui che dà anche parte del contributo per gli schizzi di preparazione di tutto quanto quello che è l'animazione di questo film Mike Mignola è famoso ovviamente per Hellboy e parlo dei fumetti di Hellboy sì sì non l'ho dimenticato volevano fare una serie su Atlantis come seguito non ci sono riusciti perché il film non è andato bene e quindi hanno fatto un piccolo lungometraggio per l'ombideo Atlantis 2 il ritorno di Milo non c'entra niente è una storia anche qui che parla d'altro e quindi è un peccato perché va nel dimenticatoio ed eccoci che arriviamo a qualcosa di molto particolare sempre di questo periodo e parlo dell'introduzione delle serie animate che si mischiano con qualcos'altro in questo caso parto da poco più avanti ovvero parleremo di Lilo e Stitch tra poco lungometraggio classico Disney incredibile anche questo purtroppo all'epoca non ha avuto il successo sperato ma poi nel tempo ci si è accorti di quanto fosse interessante quanto avesse dentro ma prima di parlare di questo devo fare un passo indietro ovvero devo tornare alla serie o meglio ad alcune serie che popolano questo periodo sempre dell'inizio degli anni 2000 ovvero ricreazione ricreazione è una serie animata molto carina molto leggera perché parla appunto di ragazzini delle elementari che si incontrano giocano tra di loro nel momento della ricreazione ci sono anche dei momenti ovviamente al di fuori ma si parla soprattutto di amicizia e quindi di crescita in questo caso perché ovviamente i personaggi poi crescono e quindi questa serie è molto divertente molto bella anche per i grandi ma la cosa che voglio dire è oltre a guardarsi tutte le stagioni della serie più i tre film che la rappresentano ovvero un nuovo inizio stiamo crescendo e la scuola è finita che conclude il tutto oltre a questi c'è da dire che questa serie si collegherà appunto a Libre Stitch oltre a loro c'è un'altra serie importante che è la famiglia Proud la famiglia Proud è una serie tutta quanta legata a una famiglia di personaggi di colore che raccontano anche la civiltà il modo di vivere di questo diciamo mondo e quindi è interessante o almeno sarebbe stato ancora più interessante se avessero alzato l'asticella al tempo perché non vengono approfondite sempre del tutto tutte le tematiche razziali che ovviamente ci sono all'interno comunque della serie ma si fanno poi delle digressioni e quindi purtroppo peccato perché la trovavo una serie che poteva avere delle potenzialità molto molto più grandi però Peggy e tutta quanta la sua famiglia sono comunque importanti perché portano del nuovo e quindi la serie più il film sono un piccolo minimondo o un piccolo sguardo su quello che possiamo vedere di questo tipo di famiglia perché ho parlato di loro perché adesso andremo invece ad analizzare proprio Lilo e Stitch questo film è una genialata intanto perché racconta la famiglia racconta dei sentimenti come sempre in qualche modo fa la Disney ma soprattutto è molto molto forte nel suo messaggio la diversità non è un limite ma si può giocare lo stesso a unire determinate realtà in questo caso l'esperimento 626 ovvero Stitch verrà chiamato così poi appunto da Lilo questa bambina che ha già tanti problemi per la sua età e quindi una mente sveglia ma allo stesso tempo ovviamente ripeto ha anche tutte le esigenze di una bambina e quindi la sua famiglia o quello che ne rimane della famiglia quindi Nani la sorella e chi riesce ad aiutarle sono dei personaggi che hanno tutti quanti un grosso peso un grosso movimento anche da fare proprio per questi pesi che si portano e quindi è un film che racconta la storia di più personaggi nonostante il titolo racconti di Lilo e Stitch i due protagonisti sono diversi ma allo stesso tempo si somigliano molto proprio per la distruzione e l'autodistruzione che portano entrambi ma insieme riusciranno poi a trovare modi diversi invece di costruire e quindi da tutto quello che si portano dietro riescono invece ad andare avanti insieme a nuove persone vecchie persone che le circondano e quindi trovare finalmente quella che è Loana la famiglia oltre all'effetto musicale grazie a tutte quante le sonorità di Elvis visto che siamo alle Hawaii visto che c'è tutto quanto quello che può riportare alla mente dei film e delle musiche appunto del re ma c'è anche dell'altro e in questo caso l'altro è il fatto che questo film è stato presentato già come qualcosa di molto particolare perché i primi spezzoni che venivano mandati trailer erano delle prese in giro ed erano delle prese in giro molto studiate perché si riprendeva esattamente l'animazione di in questo caso quattro film dell'epoca precedente ovvero la sirenetta la bella la bestia aladin e il re leone in ognuna di queste ritroviamo stitch perché perché irrompe nella storia e ovviamente rovina tutto con un piccolo disastro e questo è quello che già ci porta a capire che la disney sta prendendo delle nuove direzioni o comunque sta tentando di sperimentare delle nuove versioni di se stessa in questo caso appunto è molto divertente vederli questi corti perché raccontavano delle introduzioni di stitch forzate all'interno degli altri classici e quindi ognuno di loro si lamentava della presenza di stitch o comunque la prendevano diciamo sul ridere anche solo per il re leone quando tirano su il piccolo simba ovvero raffichi sul monte della valle dei re e invece di simba c'è stitch e quindi tutti vanno ma non è lui e allora diventa tutto quanto molto particolare e divertente stitch è esattamente questo è un terremoto di emozioni che irrompe all'interno della disney e questo voleva già essere il messaggio iniziale pensate solo che colui che fa la voce di stitch ovvero tutti i versi nell'originale è proprio il regista chris sanders e quindi fa ancora più ridere che sia questo e il personaggio di stitch che per molti è sempre stato magari un koala in realtà è un cane esattamente come viene raccontato nella storia quando lui viene preso al canile da lilo e nani ed è un bulldog francese quindi il tra l'altro il bulldog francese proprio del regista o dello sceneggiatore adesso magari ricordo relativamente però fa molto ridere che sia così la storia con lilo e stitch arriva un grandissimo classico ma non è il solo perché appunto come stavo dicendo l'universo di lilo e stitch è molto più espanso e in questo caso oltre al suo seguito lilo e stitch 2 che disastro stitch che racconta ancora dei pezzi ovviamente legati sempre al fatto che stitch è un alieno ci sono altri alieni insieme a lui quindi giumba e così via che servono a raccontare come è stato creato e perché è stato creato e come quello che dovrebbe essere un destino già scritto invece può venire ritrasformato da se stessi e da le scelte che si fanno ma stavamo parlando anche di altre serie e oltre appunto a quelle che ho già citato ci sono anche delle altre due serie da portare all'attenzione e sono Kim Possible con tutte le sue stagioni in realtà dalla 1 alla 3 poi ci sarebbe il film che è la sfida finale e poi solo dopo la stagione 4 che va a concludere la storia ma mettiamoci dentro anche il live action comunque di Kim Possible che è carino è divertente è giovane perché comunque è stato fatto molto dopo ed è interessante anche quello lì da vedere giusto perché chi ha amato Kim Possible la rivede in versione umana e quindi è carino da vedere anche con tutti gli altri personaggi che ci sono attorno storia di appunto una giovane agente segreta e quindi è divertente già per questo che comunque studia che comunque ha un amico ha un solito animale da compagnia che in questo caso è una talpa senza pelo quindi fanno tutte quante ridere queste cose ma il discorso è che Kim Possible fa parte anche lei di un universo più grande oltre a lei abbiamo anche American Dragon Jake Long che è un'altra serie dove c'è appunto questo personaggio che è anche lui uno studente anche lui ha tutto un stuolo di amici ma in realtà si può trasformare in questo dragone americano e combattere i nemici queste serie insieme a Lilo e Stitch fanno parte dello stesso universo e questo succede e lo scopriamo grazie ai seguiti di Stitch perché c'è ancora qualcosa da raccontare con Provaci ancora Stitch terzo film di Lilo e Stitch e inizio di quella che poi sarà Lilo e Stitch la serie dove i personaggi andranno a cercare tutti quanti gli esperimenti di Jumba ovvero se Stitch era l'esperimento 626 ci sono ben 625 altri esperimenti da conoscere e quindi le puntate raccontano questo raccontano il fatto che tutti quanti questi esperimenti arrivano sulla terra e i nostri protagonisti li devono cercare e devono salvarli in qualche modo ci sono dei nuovi cattivi ci sono dei vecchi cattivi perché ovviamente personaggi alieni che c'erano all'interno del film originale diventano molto più cattivi oppure spalle di nuovi cattivi serbilli e cose del genere insomma andatevi a vedere tutta la serie tutti i film e scoprite un po' chi sono i vari personaggi ma quello che voglio dire è che tutto quello che succede all'interno delle serie è per raccontare un po' tutto quanto quello che voleva essere appunto questo universo espanso oltre ad espandere la famiglia di Stitch che è fatta di tutti questi esperimenti ci sono anche degli incontri che vengono chiamati appunto crossover e quindi passiamo ai crossover crossover è l'unione di due storie che conosciamo magari già bene che sarebbero divise ma in questo caso invece vengono unite e così abbiamo ricreazione la famiglia Proud gli amici di Jake Long American Dragon e Kim Possible che si uniscono in alcune delle puntate di Leroy e Stitch e diventano parte appunto dello stesso universo tutto si conclude con il film Leroy e Stitch che è appunto il finale di stagione fatto a lungometraggio e Leroy sarebbe un nuovo esperimento molto simile a Stitch anche se in realtà avevamo visto nella serie che ce n'erano tanti altri perché abbiamo Ruben abbiamo Angel la versione femminile insomma praticamente di Stitch e altri esperimenti che sarebbero stati la versione cattiva di Stitch ma poi siamo andati piano piano ed è molto divertente vederle per poi vedere il film e sentire le battute che fanno ma non l'avevamo già fatto ma non era già successo sì appunto e quindi Leroy è l'esperimento nuovo che dovrebbe essere il cattivo poi ovviamente andrete a vedere come va a finire e questi film queste serie che vanno a creare questo universo non sono in realtà ancora finite perché ci sono tante altre storie che stanno raccontando tutto questo vado a dirvi che esiste anche un cortometraggio che si chiama L'origine di Stitch che diciamo è poco dopo il film di Leroy e Stitch e quindi c'è un piccolo momento tra Jumba e Stitch dove si racconta ancora qualcosa che magari non si sapeva oltre a il proseguo perché sono passati anni e quindi i personaggi sono diventati più grandi esiste anche la famiglia Proud più forte e orgogliosa che è il seguito dove appunto come dicevo i personaggi sono cresciuti e quindi fa sempre parte dell'universo esistono altre due serie di Lilo e Stitch che sono rispettivamente una giapponese e una cinese ma sono secondo me di poco conto perché vanno anche qui a snaturare un qualcosa che abbiamo creato con il discorso di Lilo e Stitch e quindi quelle serie che si chiamano Stitch e Eye e Stitch secondo me sono proprio da accantonare quindi le ho citate giusto per dire che esistono sono dei prodotti orientali insieme alla Disney ma vanno a snaturare un po' tutto è un po' l'effetto poco Contas 2 insomma chi vorrebbe che Lilo e Stitch si separassero nessuno quindi facciamo finta che non ci siano ed ecco arrivare una nave che diventa un'astronave per raggiungere un'isola che diventa un pianeta il pianeta del tesoro storia ovviamente tratta dall'isola del tesoro allargata all'universo lo spazio e quindi diventa anche qui qualcosa di estremamente nuovo sempre tecniche unite quindi abbiamo sempre l'animazione tradizionale con la computer grafica e in questo caso la storia sempre bellissima sempre di formazione proprio perché viene trattata esattamente come era nei libri all'epoca non viene valutata come doveva essere sempre perché siamo nell'epoca della sperimentazione Disney e quindi tutto andava un po' per conto proprio compreso il pubblico al cinema in questo caso abbiamo dei personaggi che ovviamente sono molto più particolareggiati rispetto a qualcuno che poteva essere un pirata normale e quindi può diventare molto più star warsiana la situazione con razze e specie molto molto originali e particolari ovviamente le altre cose che citerei ovviamente sono che c'è una colonna sonora tutta italiana fatta da Max Pezzali che ci sono anch'io che va proprio a toccare il cuore degli italiani perché è legata a un cantante che ci dà delle emozioni e in questo caso ce le dà grazie a questo pezzo faccio una piccola postilla che è sempre legata al mondo del doppiaggio in originale Ben che è il personaggio del robot tutto un po' pazzo che trovano sull'isola doppiato in originale da Martin Shorts ma invece da noi da Maurizio Crozza oh bellissimo Coda Fratello Orso un'altra di quelle storie che sempre proprio legata a questo periodo è bellissima racconta qualcosa di diverso rispetto agli altri film si parla sempre di famiglia sempre di alcuni temi ovviamente e soprattutto con lo spiritualismo ovvero il cercare di comprendere la natura attorno a noi e gli spiriti degli antenati e quindi qui entriamo in un ambiente che a me piace molto che è tutto quanto sistemico e le connessioni ripeto con la natura i personaggi devono imparare qualcosa come sempre quindi abbiamo Kenai il protagonista che grazie al rapporto con i suoi fratelli che è comunque problematico e comunque porta sempre delle conseguenze e tutto quello che è il rapportarsi con appunto la natura diventa una missione di autosalvataggio nonostante stia cercando di salvare anche qualcun altro senza saperlo ancora perché il piccolo coda del titolo è un piccolo orso che anche lui farà un viaggio insieme a Kenai che viene trasformato invece da umano in orso e quindi questa è la storia ma c'è molto altro dietro e viene raccontato anche dalle stupende canzoni che ci sono all'interno la maggior parte sempre proposte da Phil Collins che ritorna qui dopo Tarzan c'è un giovane Joaquin Phoenix a fare la voce di Kenai e se in originale sono Rick Morenis e Dave Thomas a fare le voci di Fiocco e Rocco da noi invece sono Massimo Olcese e Adolfo Margiotta due comici che sicuramente si fanno riconoscere in questi personaggi esiste anche un seguito di questo film che si chiama Coda Fratello Orso 2 che è meno magari stratosferico ma carino comunque nel suo messaggio sempre di sentimento che introduce questo personaggio di Nita che è doppiato tra l'altro da Mandy Moore che all'epoca si è già conosciuta ovviamente ma in questo caso poi diventerà la voce famosa di Rapunzel di cui parleremo nei prossimi capitoli mucca la riscossa titolo difficile da raccontare perché in molti sempre in questo periodo lo hanno guardato come uno dei film non interessanti della Disney in realtà è interessante soprattutto per le musiche arriva sempre Melker a farle e quindi è interessante sentire un po' di musica country rifatta con personaggi che in questo caso sono animali della fattoria forse una storia molto semplice troppo semplice addirittura mi ricordo di essere stato da solo al cinema a vederlo questo film però questo è quanto è una storia godibile ha anche un suo cortometraggio da guardare subito dopo che ha una tecnica diversa con i personaggi tutti quanti in versione deformata più piccini e così via che si chiama la fiaba dei tre porcellini e dove troviamo le nostre mucche che cercano di raccontare la favola famosa ai piccoli personaggi e ovviamente è tutto un gioco di voci e vociare che sfocia nell'incomprensibile e nel divertente tra le nostre voci delle mucche Grace la fa Marina Massironi ma eccoci arrivare a quello che in questo caso è il film che comincia una nuova era ovvero quella della computer grafica perché questo è tutto fatto in computer grafica ed è Chicken Little Amici per le penne film anche qui controverso ma ripeto sono tutti quanti film controversi quelli di questo periodo purtroppo la gente non andava al cinema c'era una nuova visione della vita dopo il 2000 e quindi è stato molto molto complicato per la Disney riuscire ad accontentare il pubblico e in questo caso ripeto sempre sperimentazione il film è molto difficile da guardare perché guardarlo adesso significa dover tornare con la memoria a quegli anni e dire ok siamo all'inizio del 2000 ed è stato impostato non è semplice qui non siamo alla Pixar ancora e quindi c'è un effetto un po' disorientante sempre la storia è molto carina anche qui sono storie molto semplici ma in realtà raccontano sempre qualcosa di molto toccante e se non bastasse ricordiamoci che in originale c'è la voce di Zach Braff che la dà appunto al personaggio protagonista e quindi già questo mi piace tantissimo e se non bastasse qui da noi è Gabriele Cirilli a farlo e la voce cantata invece è di Gio Di Tondo eh sì è proprio così perché all'epoca ricordiamo che c'è stato Notre Dame de Paris e preso dal successo di quel momento ovviamente la voce di Gio Di Tonno che era quella di Quasimodo all'interno della storia è arrivata anche qui mi fa ridere che ci siano anche Walter Veltroni a fare la voce del sindaco giustamente ma è un grande amante del cinema dopo tutto ha fatto anche lui dei film e la voce di Albertino di Radio DJ che fa la voce del Porco Spino come faccio a dirvelo in quest'epoca ci sono stati tanti errori certo ma gli errori si fanno è che c'è stato un grosso errore da parte della Disney e purtroppo si chiama uno zoo in fuga e addirittura io che sono un amante della Disney e che posso parlare bene di tutto continuamente questo non riesco proprio a mandarlo giù e più lo guardo e più mi rendo conto che non funziona per fortuna non fa parte dei classici ma è comunque all'interno di questo periodo proprio perché è uscito al cinema c'è stato e posso solo dire che c'è da noi la voce di Ricky Tognazzi che fa la parte di Samson il padre Leone ma a parte questo appunto il film è nato dopo Madagascar fatto dalla Dreamworks e quindi si sente un po' quella scopiazzatura e o comunque perché farlo se c'era già stato quello e confondere chiunque era meglio scrivere qualcos'altro tutto qua esiste uno zoo in fuga guardatelo datemi anche voi la vostra opinione ma purtroppo è semplicemente l'unico film che secondo me non funziona della Disney per qualcosa che non funziona c'è qualcosa che funziona i Robin sono una famiglia spaziale bel film molto carino perché riprende delle tematiche il viaggio nel tempo il futuro il passato le scelte la famiglia sempre e è molto ridicolo a suo modo perché racconta sicuramente un tema che potrebbe essere pesante e invece lo accoglie con divertimento persino i cattivi hanno un loro perché e quindi è molto divertente da guardare e devo dire che come computer grafica iniziava già ad andare un po' meglio in una direzione diversa per fortuna per creare anche qui quello che deve diventare piano piano la Disney con le epoche qui avremmo da raccontare tutta una serie di doppiatori italiani che ci sono dentro che fanno morire da ridere perché alcuni non so bene perché ci siano ma ci sono e comunque è piacerevole da sapere da Carlo Conti a Giovanni Mucciaccia a Tiberio Timperi Cersei Cosmi è sicuramente stato divertente crearlo e poi anche doppiarlo qui in Italia Piccola Kik è il primo lungometraggio Disney dove inizia a comparire anche il logo di Steamboat Willie con Topolino che guida la vecchia nave in bianco e nero e così all'inizio del film abbiamo Topolino questo sì che è piaciuto questo sì che è stato un bel film come d'incanto film di tecnica mista come lo era Mary Poppins e in questo caso abbiamo proprio Julie Andrews a fare da voce narrante questo film è riuscitissimo ha un sacco di canzoni e i personaggi in live action e in versione animata funzionano tantissimo Giselle il personaggio fatto da Amy Adams è proprio la tipica principessa che dal mondo animato arriva al nostro e quindi si ritrova nella New York City tutta un po' pazzolente un po' bruttina un po' con non è vero anche quella i suoi lati positivi ma ovviamente visti dagli occhi di una principessa disneyana e quindi abbiamo la Disney che si prende in giro e che allo stesso tempo riesce ad innalzarsi è molto bello il film abbiamo tantissimi attori che ci sono qui all'interno da Patrick Dempsey a James Marsden che fa il principe azzurro Susan Sarandon che fa la regina cattiva che è bellissima come sempre e poi abbiamo Idina Menzel che conosceremo più avanti come la voce di Elsa ma in questo caso sappiamo essere già una cantante di musical fenomenale il film ripeto funziona su ogni punto di vista e quindi vi invito a vederlo anche se non fa parte dei classici come al solito ma di quelli in tecnica mista anche perché di recente hanno fatto il seguito ovvero come per disincanto e vissero infelici e scontenti che anche qui è di nuovo una rivisitazione perché si prende in giro di nuovo la Disney nel far sì che qualcosa finisca male poi ovviamente finisce bene però è molto bello perché rimette rimescola tutte le carte che c'erano sul tavolo dal vecchio film precedente e quindi un mondo di nuovo di musica altra serie da guardare assolutamente Phineas e Ferb mamma Phineas e Ferb hanno fatto la sigla iniziale e con questa frase Kendance che è il personaggio cattivo della storia e anche qui fa molto ridere che sia così perché certo sappiamo benissimo che c'è anche una sottotrama però in realtà la trama originale iniziale è quella di due fratelli più una sorella più grande che cerca di sventare ogni volta i loro piani di fare qualcosa costruire qualcosa per passare i giorni dell'estate Phineas e Ferb sono interessanti in questo periodo perché raccontano nonostante non siano dei classici Disney raccontano una trama molto intelligente molto spiccata molto divertente ovvero che cosa faremmo se fossimo dei bambini e volessimo passare l'estate costruendo delle cose che poi ci darebbero davvero senso di appagamento anche se solo per un istante perché poi queste cose scompaiono prima che le vedano i genitori e oltre alla serie viene da me qui citata perché è una delle poche che ha anche dei lungometraggi oltre alla serie e i lungometraggi sono dopo le prime tre stagioni Phineas e Ferb nella seconda dimensione e Phineas e Ferb Candace contro l'universo c'è una quarta stagione dove abbiamo anche qui altre cose che succedono ma soprattutto abbiamo dei crossover perché Phineas e Ferb sono dai pochi che possono vantare di avere al loro interno sia un crossover con la Marvel sia un crossover con Star Wars e quindi questo li mette al centro ovviamente dell'universo disneyano oltre a queste serie c'è un momento anche di talk show con vari attori cantanti altri personaggi che invece sono in live action e chiacchierano con Phineas e Ferb in alcuni piccoli corti e soprattutto dopo tutta la serie abbiamo un altro crossover con una serie che si chiama La legge di Milo Murphy che è una specie di discendente di colui che ha creato la legge di Murphy ed è molto bella anche questa serie molto intelligente e appunto ha il suo crossover con i nostri amici Phineas e Ferb poi Phineas e Ferb è un'altra parte interessante delle storie disney perché racconta di due fratelli che in realtà sono fratelli adottivi perché Ferb è adottato e arriva dal Regno Unito dall'Inghilterra ed è molto diverso un po' nel suo anche modo di esprimersi e parlare ma nonostante questo c'è una grande unione si parla anche di futuro a un certo punto e quindi scopriamo cosa succederà ai personaggi con chi si incontrano quali interazioni ci sono e come dicevo c'è una sottotrama di Perry l'ornitorinco che è il loro animale domestico che in realtà ha una seconda vita come agente animale che quando indossa il suo cappello riesce a sventare i piani del dottor Peter Smith che vuole invece conquistare la città in realtà poi cerca di conquistare anche il mondo ma tanto non ci riesce quindi è un personaggio tristemente simpatico e io trovo che questa serie sia bellissima anche lei sotto ogni punto di vista forse una delle scritte meglio a sé stanti e poi abbiamo Bolt un eroe a quattro zampe che è un film molto carino anche questo all'epoca sempre lasciato un po' in sordina ma in realtà ha tutte quante le sfere che servono per toccare i soliti punti la ricerca di una famiglia il cercare di diventare un eroe in questo caso e quindi il viaggio sempre dell'eroe e l'amore anche tra animali bambini e quindi c'è tutto c'è tutta l'atmosfera che serve anche in questo film disneyano c'è un cortometraggio che si chiama Superrino che è legato al personaggio del criceto e quindi guardatevi anche quello che fa sicuramente ridere quello che voglio dire è che le voci all'interno di questo film di Bolt per esempio è quella di John Travolta in originale mentre di Raoul Bova qui da noi in originale la voce di Penny è di Miley Cyrus e di quando lei è ancora più piccola è di Chloe Grace Moretz quindi anche solo per questo è sicuramente un bel film da vedere ma ripeto poi c'è anche tutta la parte di disillusione del piccolo cagnolino Bolt per quel mondo che si era lui creato pensando di essere davvero un supereroe e non un eroe della tv e quindi il cambiamento che deve fare rispetto alla realtà dei fatti la computer grafica sta andando sempre meglio ma abbiamo un piccolo momento triste nel senso che triste per me almeno ma sicuramente per molti di voi c'è l'ultimo film d'animazione tradizionale perché da qui poi non ci saranno più cartoni animati vecchio stile ma solo in computer grafica e sto parlando della principessa in ranocchio favola conosciutissima qui è ricambiata ovviamente a modalità Disney e con musiche stupende personaggi incredibili bellissima l'atmosfera anche della Louisiana e quindi tutti i colori che ci possono essere all'interno di questa storia e poi è divertente e poi è drammatico e poi c'è un cattivo bellissimo c'è tutto in questo film per essere l'ultimo film in tecnica tradizionale è stato davvero un successone l'effetto nostalgia diciamo che ha funzionato per riportare le persone al cinema e Tiana entra di nuovo all'interno invece delle principesse Disney e quindi va a fare compagnia a tutte le altre è un personaggio anche lei fortissimo perché come abbiamo detto le principesse non sono più da salvare ma si salvano da sole in questo caso diciamo che i due personaggi con il principe Navin in questo caso si devono equilibrare e quindi per riuscire a piacersi devono anche superare una serie di differenze che hanno all'interno dei loro due mondi ed è bello perché non è solo una che aiuta l'altro ma questa volta è una che aiuta l'altro ed è l'altro che aiuta anche l'una finalmente un po' di equità tra i due sessi e non c'è solo questa abbiamo come dicevo un cattivo veramente cattivo il dottor Facilier è molto molto inquietante e a me piace tantissimo perché c'è sempre un teschio di mezzo poi tutto il discorso del voodoo e tutti gli spiriti e fa anche di peggio è uno dei pochi cattivi che uccide qualcuno dei personaggi principali della storia e infatti abbiamo un personaggio molto divertente molto drammatico molto ingenuo anche nel suo essere buono che è Ray la lucciola ah la voce ovviamente di Ray è di Luca Laurenti ma come al solito vi rimando a guardare il film e vi ho anche raccontato fin troppo però è molto bello da vedere questo film davvero quindi ve lo consiglio come ho fatto con tanti altri ovviamente guardatevi tutti perché vi sto mettendo in ordine per questo quindi cercate di guardarli in questo ordine ma arriviamo all'ultimo film da presentarvi per quest'epoca che non è un classico ma fa parte comunque di questo momento esiste una casa di produzione che si chiama i Mage Movers ed è unita alla Disney perché poi è stata assorbita e in questo caso aveva creato un bellissimo film che io trovo la versione più bella in assoluto del canto di Natale e infatti è A Christmas Carol in questo caso abbiamo alcuni attori che fanno tutte le parti che ci sono perché questo è un esempio di performing capture che cosa significa performing capture ovvero sono quei elettrodi quelle cose che si mettono sul viso per prendere i movimenti del viso dell'attore e da questo sul computer poi si ricreano dei nuovi personaggi con le espressioni i movimenti facciali di questi personaggi e chi potevano scegliere se non Jim Carrey faccia di gomma per fare proprio questo lui è Ebenezer Scrooge ma è anche il fantasma del Natale passato il fantasma del Natale presente e il fantasma del Natale futuro ma ci sono anche altri attori Gary Oldman Bob Hoskins Colin Firth Kerry Owls e Robin Wright sono gli altri attori che danno viso a molti dei personaggi che ci sono e è bellissimo cercare anche di riconoscerli durante la visione del film ma è il dare finalmente forma a questa storia scritta da Charles Dickens che è il fiore all'occhiello della Disney aver finalmente potuto creare quelle scene che lui descriveva così bene perché possono fare quello che vogliono con l'animazione e in questo caso possono farlo ancora meglio con la computer grafica e in questo caso possono farlo ancora meglio sempre più perché ci sono degli attori che prestano il movimento il film è diretto da Robert Zemeckis e così concludiamo di nuovo a specchio questo momento questa era che è quella della sperimentazione come successe con l'era del bronzo ovvero come avevamo fatto con Roger Rabbit in questo caso sempre Robert Zemeckis riesce a dare il botto finale con un film che è sicuramente uno dei più riusciti per me non è Natale senza il canto di Natale quindi io ve lo dico guardatevi tutti i babbo Natale che volete ma Ebeneezer Scrooge a me fa più da Natale di tutto e sarà perché è lo switch il cambiamento il fatto di appunto sempre quel viaggio dell'eroe che uno deve fare il cambiamento ed è proprio uno dei personaggi più rappresentativi di questo è il cattivo e diventa il buono della storia ma perché? perché andiamo a conoscere il suo passato andiamo a vedere cosa può fare nel presente e vediamo anche quali sono le ripercussioni che possono esserci nel futuro e ci sono delle scene bellissime fatte con l'animazione in questo film che creano la paura l'effetto di stupore e tutto quanto quello che ripeto fanno gli attori con le loro smorfie ma ricordo anche che è uno dei primi film che creavano l'effetto 3D e quindi è molto bello proprio anche perché il film era stato girato in modo tale che si potesse vedere con gli occhiali 3D e che potessi immergerti all'interno della storia e con questo film io concludo anche questa carrellata lunghissima perché è stata molto molto lunga però l'era della sperimentazione serviva proprio a questo ragazzi è il momento in cui tutti dall'animazione dalla sceneggiatura da tutto la direzione anche dei film perché tantissimi registi che non ho magari citato avevano già lavorato in alcuni film e avevano iniziato molto tempo fa e adesso possono dare delle nuove idee e cercare di creare sempre qualcosa di più complesso certo questa epoca serviva proprio per dare dei là e nella prossima vedremo dei nuovi risultati che saranno molto più sgargianti e allora come al solito io vi ricordo che esiste sempre il mio canale instagram e tiktok dove poter andare a vedersi magari in pillole e tutto quanto a risfogliare anche tutto quello che ho scritto per sempre farsi un riassunto di quello che bisogna guardare e io vi rimando ovviamente come al solito alla prossima puntata grazie a tutti